Molti oggi, seguendo i ragionamenti di intellettuali ed esponenti della cultura moderna, considerano le religioni come una istituzionalizzazione della fede in una presunta trascendenza e questo secondo loro rende meno uomini perché toglie la libertà di coscienza. Ma il cattolicesimo è assai diverso, anzi è l'eccezione. Non possiamo definirlo in modo univoco una religione come tutte le altre, anche se molti cristiani lo vedono solo sotto questo punto di vista. Il cattolicesimo consiste nella fede viva in un uomo che è l'incarnazione stessa di Dio, Gesù Cristo sempre presente nella storia dell'uomo singolo e della collettività. I cattolici credono che la Chiesa stessa sia Gesù Cristo, come il suo corpo, la sua anima e la sua divinità, e l'apice di questa realtà è l'Eucaristia. Se quindi la Chiesa è il corpo, è giusto che essa abbia una sua istituzione gerarchica, perché un corpo umano possiede la mente e le membra ben strutturate, ognuna delle quali ha un compito ben preciso e non può svolgere mansioni diverse. In effetti, il nostro corpo è formato da miliardi di cellule, le quali a loro volta formano tantissimi altri organi e tessuti che devono obbedire a determinate leggi per mantenerlo efficace ed efficiente. Naturalmente, essendo un corpo fragile e mortale, oltre ad una sana alimentazione, esso necessita di continui interventi per rettificare i comportamenti devianti, sanarlo da malattie, eccetera. Ecco allora i sacramenti amministrati per la divinizazione dell'uomo. Il battesimo lo inserisce a pieno titolo in questo corpo mistico, mentre gli altri sacramenti lo aiutano a mantenere questa sua appartenenza per la crescita spirituale. Alla fine questo corpo mistico verrà misteriosamente assimilato in Cristo, e tutti coloro che hanno cercato di aderire alla fede in Gesù Cristo nel pentimento, nella conversione interiore e nell'amore per Dio ed il prossimo, godranno della visione trinitaria beatifica, dove l'umanità sarà completamente rinnovata nel circolo trinitario.